Una delle cose che più mi ha colpito la folla è i papà e le mamme con i bambini che alzavano i bambini, perché il Papa le benedicesse, ma anche con orgoglio facevano vedere i propri bambini, i loro bambini, come dicendo questo è il nostro orgoglio, questa è la nostra speranza. Io ho pensato un popolo capace di fare bambini e capace di farli vedere con orgoglio, come speranza, questo popolo ha futuro.